Con ConfCommercio c'è sempre stato un rapporto reciprocamente collaborativo, noi ogni azione che traprendiamo sulla città passa per il dialogo, per il tavolo di concertazione con le categorie economiche, fino a che non c'è una collegialità non se ne esce mai, quindi mi sento di dire che il rapporto è buono. Il vice sindaco di Udino Alessandro Venanzi tende una mano a ConfCommercio e cerca di placare gli animi scaldatisi dopo l'ordinanza che ha vietato la vendita delle bevande alcoliche dalle 21 e la somministrazione delle stesse dall'una di notte. Ordinanza che, secondo gli esercenti, va a penalizzare esercizi locali che nulla hanno a che vedere con l'ondata di violenza e criminalità in città. È evidente che fare ordinanza non piace a nessuno, quell'ordinanza lì è nata in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sucurezza Pubblica, presieduto dal prefetto che è rappresentante del governo del nostro territorio e rappresenta il Ministero degli Interni. Il questore prefetto hanno immaginato delle azioni, noi abbiamo chiesto con grandissima forza la presenza di più polizia e di più carabinieri, è arrivato anche l'esercito, in città per presidiare il territorio e loro ci hanno chiesto, tra il pacchetto di azioni da intraprendere, di emanare questa ordinanza. Per essere chiari, quel provvedimento lì è nato nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sucurezza Pubblica e eventualmente viene modificato in quel contesto lì. Lunedì ci sarà credo l'incontro. Un problema, quello della violenza, che a prescindere dall'ordinanza, che alla fine dura un mese, andrà in realtà poi risolto più a fondo. Mai immaginare di sostituirsi alle forze dell'ordine sul tema della sicurezza e del presidio del territorio. Noi abbiamo uno strumento che è la polizia locale, nella quale abbiamo aumentato l'organico, abbiamo per la verità raddoppiato tutte le azioni, oltre a averle mantenute rispetto a quelle che la precedente amministrazione aveva messo in campo. Abbiamo mantenuto telecamera, abbiamo mantenuto i cani antidroga, abbiamo mantenuto i taser, abbiamo mantenuto chiaramente dei finanziamenti rafforzandoli sul tema delle telecamere, abbiamo mantenuto i finanziamenti rafforzandoli sul tema degli steward. E' chiaro che il Comune può fare questo, bisogna anche essere onesti nel dircelo, però è chiaro che quello che possiamo chiedere è a chi ha questo ruolo, perché lo avoca sempre a sé, è quello di essere presenti e di avere più opportunità di presenza di forze dell'ordine. Il ministro Piantedosi aveva garantito di far arrivare 60 agenti di polizia di Stato entro il 30 giugno nella nostra città, per il comando, per la questura che è il comando provinciale del territorio, mi auguro che arrivino, siamo già un pizzico di ritardo, ma lo perdoneremo se ci rimanda la prossima settimana, però che ci rimandi perché chiaramente gli strumenti ce li hanno loro per presidare il territorio.